Musica Lunedì 30 gennaio, Santa Martina Martire, è il trentesimo giorno dall'inizio dell'anno, ne mancano 335 al termine, il sole sorge alle 7.34 e tramonta alle 17.15, la luna leva alle 8.51 e tramonta alle 20.03. Nasce a Venezia Bernardo Bellotto, figlio di Lorenzo e di Fiorenza Domenico Canal, è nipote di Antonio Canal, come lui sarà chiamato Canaletto e diverrà uno dei più famosi pittori veneziani del Settecento. Le previsioni per domani, presenza di diffusa nuvolosità, più compatta sulle zone centro-meridionali, con schiarite in montagna dal pomeriggio, fino al mattino possibile presenza di foschie, nebbie e nubi basse in pianura, temperature minime in aumento, massime in lieve calo. Grazie a tutti!